Il tetto inamianto Il tetto inamianto Alcune famiglie per libera scelta dormono altrove, quelle in particolare che alloggiano all'ultimo piano e che si sono ritrovate letteralmente con il buco sopra la testa. Tutti gli altri sono ovviamente molto preoccupati ma più che altro si chiedono se una volta terminati i lavori di ripristino tutto tornerà nel dimenticatoio oppure no. Io non sono né rosso né verde per me l'importante è che i lavori vengano fatti. Io ho il mio nipotino che sono dieci giorni che non viene a trovarmi a quattro anni Cristian. Non viene perché giustamente come fai a portarci una creatura? Allora sono costretto io la sera a andare a casa sua, cioè mi sembra siamo arrivati al paradosso ecco diciamo le cose. Non possono andare a giocare nei giardini questi bambini. Intanto Arezzo Casa S.p.a. presieduta da Gilberto Dindalini ha pubblicato nel sito dell'azienda una sorta di cronostoria del condominio di via Malpighi consultabile ad un link preciso. Ma quello che vorrebbero i residenti è proprio la parola fine da parte di tutti gli enti che se ne stanno occupando. Io vorrei mettere a confronto le due parti per vedere perché se si va da uno così e dice una cosa, se si va da quell'altro e invece quando sono a confronto si vede, se uno dice i soldi ci sono. E quell'altro dice che non lo vuole fare e allora... Ormai sono 32 anni che ci abitiamo, perciò vuol dire è il momento buono per metterci le mani definitivamente, capito? E noi faremo di tutto per... Perché avvenga. Ecco, e che non si...